I carabinieri del ROS hanno scominato un'organizzazione internazionale per la produzione e il traffico di droga. Coadiuvati dai comandi provinciali di Teramo, Pescara, Fermo, Ascoli Piceno, Brescia e Perugia e in coordinamento con il Landeskriminalamt del Nord Reno, Westfalia, Germania, l'Udico Central della Policia Nazionale, Spagna, la Police Judiciaire Federale di Mons, Belgio e il Dipartimento Antinarcotici della Polizia Nazionale dell'Ucraina hanno dato esecuzione a 14 misure cautelari in province italiane e dall'estero. A vario titolo sono responsabili di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, operante nel territorio nazionale, in Germania e in Spagna, con ulteriori contatti in Belgio e in Ucraina. L'attività in corso è il risultato di complesse e prolungate investigazioni del ROS, coordinate dalla DDA dell'Aquila, a seguito delle quali è stata documentata l'esistenza di una struttura organizzata dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, disvelando, altresì, le modalità di approvvigionamento del narcotico che giungeva in Italia, dalla Spagna.